Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della nostra Ulissecraft Allora, ho questa nuova webcam qui, cerchietto, pallino, quello che è insomma E sto visitando con OBS, quindi dovrebbe più o meno risultare piuttosto simile La qualità direi di sì Comunque abbiamo fatto un bel po' di questo tank, cioè abbiamo ripetuto così tutto Ora va posizionato tipo da qualche parte, lo posizionerei qui ragazzi miei E ovviamente ci metterei anche il suo conduit Quindi va messo qui il conduit ragazzi in questo modo, perfetto E qui va fatto così, clicchiamo qui sopra, andiamo nell'extract, ok E andiamo qui, selezioniamo sul liquido, andiamo in auto-extract, perfetto E qui dentro dovrebbe arrivare tranquillamente in neutral tank, perfetto Andiamo qui adesso in questo modo e facciamo in auto, ok Gli mettiamo il nostro piccolo remote controller, ok E diciamo guarda qui c'è l'insert ma c'è anche l'extract che ovviamente è fatto senza segnale Quindi va più che bene In teoria ragazzi ora è tutto acceso, possiamo andare qui sopra E troviamo l'item qui dentro, guarda qua che figata Possiamo prenderci i bombil, ok Li prendo, li voglio rimettere indietro, bam li lascio qui dentro E dovrebbero in teoria tornare indietro, ok No non tornano indietro perché qui non ho inserito una cosa importante, l'extract Ok, quindi bam dovrebbero tornare e ritornare in una di queste chest In realtà questa chest è l'unica che abbiamo posizionato tramite il nostro remote awareness upgrade Quindi è l'unica in cui tornerà L'utilizzo di neutral tank è davvero poco, misero devo dire per ogni operazione Però ovviamente va comunque fatto una farm che mantenga tutto quanto Quindi comunque qualcosa va fatta Cerchiamo un attimo di mettere queste awareness un po' ovunque Ok E l'unico grande problema ragazzi miei è il fatto che comunque Dobbiamo sempre posizionare roba indietro Quindi sarà un bel problema Ehi La cobblestone si muove da una porta all'altra come mai Ah perché probabilmente ho inserito Ok qui devo fare insert in e output Ok così dovrebbe andare bene credo Vediamo un po' se è giusto Ok Non so perché la cobblestone tipo scende e va dall'altra parte Probabilmente entra in questa chest e poi se ne va dall'altra parte Bella domanda perché probabilmente tipo si sta spostando Comunque Rimane il fatto che questo piccolo smistamento funziona piuttosto decentemente Non è granché ma è un buon modo poter recuperare oggetti senza dover cercarli un po' in giro Per esempio parliamo del copper vogliamo Ops sbagliato Oh ok Copper per esempio scriviamo copper Non c'è non lo troviamo Perfetto quindi facilissimo trovare i suoi oggetti che vogliamo E una cosa che voglio fare sicuramente è prendere la roba di qui e tenerla qui dentro Credo che mi convenga ovviamente fare in questo modo Sapete cosa Tipo qui lasciare l'extrata ok Tipo soltanto estrarre Ok Anzi no bugia nemmeno estrarre Poi voleviamo completamente tutto Lasciamo Lasciamo così Never active Ok così che possiamo recuperare oggetti ok E poi in caso li andiamo a rimettere a posto nella chest qualsiasi Perché tanto a noi poche importa vero Si ok sta andando bene Credo di si No Perché c'è stato problema qua ragazzi Perché c'è l'extrata e l'input Ok lasciamo il brown qui Ora non dovrebbe più muoversi vero Ok mi avevo risolto il problema Perfetto Semplicemente vi spiego il problema qual era Avevano entrambi due input uguali Quindi la roba usciva di qua e entrava qui dentro Usciva di qua e entrava qui dentro Quindi era un po' un macello Invece così abbiamo risolto il problema Sappiamo che deve andare in po' la chest e basta Ok buttiamoci la roba qui dentro Dobbiamo farci un po' di roba tramite la nostra ender pearl Quindi andiamo un attimo a craftarci Un paio di oggettini Che sono principalmente i nostri lingotti Fatti di ender pearl e iron Ok andiamo al craftaggio di altri piccoli condui Tranquillamente utilizzando sempre i binder tutto quanto Oddio Ah giusto era si facevano con questi Si facevano Bam E quasi quasi ho finito i binder Quindi devo farmi un po' di più di binder Però quello lo facciamo dopo Quasi quasi dicevo Direi di unire sta roba così Anche se non credo Ce la faremo mai ad arrivare fino a lì Non credo Ah e si facciamo così per il momento Andiamo in questo modo Ok un due tre Ok non ce la faccio Devo farmene altre tranquillamente Quindi devo farmi un paio di binder in più E io credo avessi altri cosi qui dentro Comunque li avevo craftati un po' Probabilmente li ho usati tutti Probabilmente si li ho usati tutti Ok fatti altri binder Bisogna fare quindi in questo modo di nuovo E dovremmo avere abbastanza roba Più che altro sapete che mi manca ragazzi Mi manca ancora un Un coso Quello awareness Che si faceva Se non sbaglio con un ender pearl Quindi mi sa che sono senza ender pearl E si Allora direi Mentre aspettiamo che tutto ciò Diciamo Che arriva la notte Possiamo fare tutto il resto per l'ender pearl Direi che La cosa migliore da fare Sia craftare finalmente una cosa molto importante Ovvero una battery Ok inizieremo da una battery molto semplice Che è quella della Eh Nostra Piccola All'altra non si chiama manco battery Si chiama Allora è thermal Scriviamo Ok la batteria della thermal Comunque quella easy ragazzi Quella fatta di Led E Redstone Ed è questa qua La Redstone Energy Cell E Ok dovrebbe funzionare tranquillamente Si poi vi ho fatto Con la Redstone Conductance Coil Vedete qua Conductance si fa con l'electrum Questo mi ero dimenticato di spiegarvelo Electrum serve per Condurre e ricevere energia Entrambi Ok ovviamente Quanto è bella sta cosa Guardate qua Il flux transfuser Affigata E' bellissima Ok lo devo fare poi in futuro Comunque E' male il fatto che dobbiamo Craftare questo coso Che è facilissimo da craftare Si fa tipo una Una di questa Un po' di glass E noi ce l'abbiamo Il glass Voglio ce la dobbiamo buttare Proprio il glass Ok E tutto il resto Ok Vediamo un po' 1 2 3 4 Mettiamo questo glass Qui tanto ci servirà In futuro per il crafting E uno di questo Bam Fatto Poi Electrum Electrum si fa con La Con silver E la Gold E noi siamo fortunati Perché abbiamo sia silver Sia gold Tipo in questo modo Credo che però Non si possono fare così Però No si possono fare L'emersive engineering E' troppo bella ragazzi L'electrum Crint Non so che sia E con questo Facciamo l'electrum Quindi bam Buttiamoci qui dentro Ci facciamo l'electrum E poi ci facciamo un altro Ce ne facciamo Perfetto E abbiamo l'electrum Dal nulla Grazie a immersive engineering Che oggi useremo anche un po' di più Perché vi faccio vedere un paio di cosette in più Ragazzi dell'emersive Ok Se vi è questo Mi serve l'altra redstone Noi abbiamo l'altra redstone In realtà Quindi Dettagli Prendiamone comunque un po' Ok Ci facciamo 1 2 E uno di questo Bam Eccolo qua Il conductance E Cosa che ci serviva qua Mi serviva solamente Del copper Ah aspettate Posso farne Scusate perché 2 Ah posso fare anche l'hardner Se voglio No però facciamo quella Energy normale Poi faremo anche l'hardner Perché adesso non abbiamo visto Manco l'inver come si fa Col copper Copper che non ho qui Ho sicuramente in chest Non andare indietro Piccolo amico Perfetto Avete questo sbattimento Di andare indietro Avanti indietro Avanti indietro Noi lo possiamo fare tranquillamente Adesso appena facciamo Questo Un paio di enderman in più Quindi appena facciamo Un paio di cosette E Adesso cosa bisogna fare Bisogna Ovviamente Piazzare questa qui Qui sopra per esempio Ok in questo modo La piazziamo La piazziamo qua per esempio Che è molto easy Poi Cosa bisogna fare Andare qui Scrivere immersive engineering Ok Vi ho fatto già vedere un paio di cosette Immersi Però ora andiamo a vedere Qualcosa di più figo E più bello Si si vede il coil Iniziamo con questo qua Molto shallow Il copper wire Sapete come si faceva Insomma era facilissimo Del wooden post I wooden post Si fanno col threaded E il threaded Come si faceva? Oh col creosote Vedete? Vedete che creosote ci serviva E principalmente mi servono Delle bottiglie Credo Vanno bene le bottiglie Sì credo Bottiglie vanno più che bene Ok Ho sbagliato Ops Le bottiglie si fanno così Perfetto 3 Io ne farei ancora un po' di più Ma no Basta Infine poco importa Quanto ci serve E il creosote qui dovrebbe essere Più o meno abbastanza Ok 6000 Si mettono qua le boccettine Si fa il creosote Si tiene Bam E andiamo al craftaggio Estremo di oggetti Ci serve un po' di legno In questo modo Ci facciamo il threaded wood Ok Facciamo anche un altro in più Questo che ci siamo Tanto le bottiglie Ce le da indietro Quindi figata E con queste Si fanno gli stick Ovviamente Me ne servono un po' Direi 12 vanno bene Perché noi siamo due fans Servono Perfetto Ah 2 e 2 Me ne ha fatto addirittura 4 me ne ha fatto Perfetto Eccolo qui ragazzi Il wooden post extension Le andiamo a mettere Uno per esempio Qua Ok Ehi Non si può piazzare Mi serve un po' di spazio in più Ehi Oh diamine Mi serve un po' di spazio In più Non le piazza Come mai non le piazza Ehi Tu dovresti poterle piazzare Qui Come mai non le piazza Mi sa che c'è qualche problema Di spazio probabilmente Si Ok Forse torce Ok Sono stupido Perché in realtà Devo fare le post normali Non le extension Mi sembra giusto fare quelle normali Si fanno con Stone Oddio Stone 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 Abbiamo della stone qua Cerchiamola Stone Non abbiamo della stone Che bello E Vabbè La mettiamo a cuocere subito Subito Pensavo di averla Invece No Manco Un pezzo In realtà Abbiamo un po' Messa a cuocere La stone Ehi Non ci arriva lì sopra Non ci arriva lì sopra Davvero Stai scherzando Ok Ora ci arriva Perfetto Diciamo Facciamo un po' di stone Qui non c'è sicuramente Infatti E no Ce l'abbiamo Guarda che culo ragazzi Abbiamo 5 pezzi completi Ne servono 4 Mi servono Ok E ci andiamo a craftare Quindi queste wooden post Che sono quelle normali Ok In questo semplice modo Bam Ok Ora sono giuste Queste sono sbagliate Mi serve anche un po' di legno Perfetto Facciamoci Un paio di Fili ancora Ok Vabbè 16 già Basteranno sicuramente Per quello che dobbiamo fare E ora possiamo Piazzarne uno Ok Uno qua Poi Uno Probabilmente dovrebbe andare bene qui Perché ovviamente ha un limite massimo Di lunghezza Vediamo un po' se arriva fin qui Vediamo un po' Dove sta il coil Coil Ah vero Mi sa che devo metterci i cosi Vabbè comunque Uno qua Uno là E Uno dovrebbe andare bene qua Tipo Ok Per poi finire ovviamente qui vicino E credo che basti Ovviamente perché poi ci mettono la batteria Dovrebbe funzionare Credo Ok Dovrebbe essere tutto più o meno giusto Ora mi manca solamente da fare in questo modo Allora di qui Dovrei fare qui E ovviamente più Più che altro Il problema è che credo si mettano questi Vero? I transformer Infatti Ok E Si arriva qui Ah ho sbagliato Vediamo un po' No ma credo che questi non si mettano proprio Sapete? Vediamo un po' Ricordiamoci sta cosa Comunque Allora una cosa importante che ricordo Quella non ci sono dubbi E mettere uno di questo qua Qua Ok Devo fare Prima connection qua E poi connection qua Giusto Giusto Comunque questi sono Tipo possiamo salirci ragazzi Guardate che figata Fino qui Guardate che bella cosa Ci mettiamo questo qua Bam Ok Vedete qua Perfetto E poi dobbiamo fare tutto il resto Per poter arrivare fino lì E mi sembra un'altra batteria Quindi devo fare un'altra di batteria anche Ok Il senso dovrebbe essere più o meno questo E infatti vedete Ragazzi L'energia sta arrivando Quindi Dovrebbe più o meno Essere abbastanza figo Estaticamente è Fantastico E questo è l'unico motivo Per cui sto usando l'immersion engineering Ma dovete sapere una cosa molto importante Questi Piccoli amici Non portano soltanto Questi cavi E Con network Possono portare anche l'uplied Quindi i cavi dell'uplied Solamente che c'è bisogno di un'altra cosa in più Tipo l'isovra Ora comunque L'importante è che portano anche l'uplied E adesso L'energia di là Sta arrivando qua Wow È fenomenale questa cosa E ovviamente Vabbè L'energia che arriva adesso è molto poca È molto misera Però Cioè capitemi Stiamo utilizzando un generatore abbastanza verdosi Ma in futuro Tutto questo diventerà ancora più figo E ancora più bello Quando lo vorremmo fare più Più bello in sostanza Perché adesso non possiamo Allora Io direi che possiamo Metterci questo coso qua Tipo Ehi Deva torcia Perfetto Giriamo Così me lo facciamo Colare la lava qui sotto Ok L'energia esce anche di là E questo qua Lo andiamo a inserire Magari qua In futuro lo aggiusteremo Comunque La notte non si è fatta ancora Quindi dovremmo forse aspettare Ragazzi Nel frattempo Tutto funziona abbastanza bene E addirittura Abbiamo adesso la farm Che funziona Senza dover Chissà fare quale impianto lì Basta fare giusto due cavi E lo ci qua Che portano energia E tutto E magnificamente fatto L'unica cosa che voglio fare Prima di chiudere l'episodio Che è una cosa Che sicuramente È importante da fare Stavolta se abbiamo Non abbiamo quei blocchi Forse ci li ho messi a posto Sicuramente li ho messi a posto Tipo qua No li ho messi qua Li ho messi Mi servono Un paio di questi Anzi uno di questi In sostanza E delle chest Ok Poi del wood Lo prendiamo Perfetto E ci facciamo un po' di Oh ragazzi Un paio di Tipo Bah Non lo so Certo ma non mi viene così 12 sono anche troppe Sinceramente Perché devo fare Tipo Oddio 6 Va benissimo Ok 6 oh ragazzi Ne andiamo a posizionare Una chest qui sopra Prima di tutto Facciamo questo Così Ok E una chest In questo modo Ok Ah Ok Sì stranamente Va bene comunque Anche se c'è La chest in mezzo E facciamo Extract Qui le diamo un attimo Sto coso che non ci interessa Le diamo disable E qui inseriamo Input Ok Vieni qua Insert Ok Quindi diciamo Ehi Tu Ehi Tu Clicca Magari Cliccare Tu Sei green Ok E dici Esci Quindi uscirà la roba che c'è qui dentro Qui dentro Ok Qui c'è l'input verde Ovviamente E quindi la roba che C'è scritta nel verde De uscire Entrerà nel verde Ok Quindi i colori vanno messi In coppia Se no non funziona Ragazzi mi sembra ovvio Quale cosa E da qua sopra Inseriamo Il pull C'è il Sì il pull in sostanza Se vogliamo Ma poco importa Infine lui Va comunque a fare il pull In automatico Ci mettiamo dentro le nostre vo Ok E queste vo adesso Andranno a finire qui dentro E inizieranno a funzionare In modo greggio e figo Quindi Wow Abbiamo finalmente Una farm completa Funzionante Abbiamo un 27 stack Di patate Ok Non abbiamo manco fatto Le patate 10-10 Che vi spiegherò Nel prossimo futuro Quindi GC Quasi quasi Vorrei fare un upgrade Quindi farò un upgrade Qui magari Per rendere il tutto più figo E Qua devo vedere come fare Questa roba ragazzi Perché mi servirà Comunque In off camera Vado a recuperare Tipo una ventina Di enderpearl Perché mi serviranno Per il prossimo episodio E da Ulisse È tutto ragazzi Noi ci vediamo nel prossimo video Fatevi sempre nei commenti Cosa è piaciuto della webcam Se vi piace oppure no E noi ci vediamo Nella prossima puntata Ciao ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi